Il nuovo presidente Mirko Macione era importante anche per la nuova presidenza partire con il piede giusto e ci voleva insomma una vittoria sofferta ma in fin dei conti bella anche perché appunto infaticata. Benissimo, come hai detto tu, ce l'abbiamo messa tutta, ci sono state qualche difficoltà, però le ragazze all'ultimo, ho visto, ce l'hanno messa tutta e ci sono riuscite molto bene. È stata una partita sofferta, i punti sono stati strappati proprio con le unghie, i sette sono stati un po' distribuiti un po' a parte e insomma questa gioia qua ci voleva soprattutto per partire con questo campionato. Senti, spaziamo un po' più in generale, un po' più verso l'orizzonte, ti sei insediato da poco, da pochissimo questa presidenza che torna a Spezzina dopo l'era fara, l'indimenticato, che non dimenticheremo, ingegnere milanese. Tu ora come nuovo periodo di presidenziale cosa ti proponi? Ma guardate, il nostro obiettivo è quello della divulgazione di questo sport. Noi abbiamo 450 atleti e quindi vuol dire riempire le palestre, far giocare la nostra gioventù e tirarle su proprio nella maniera buona, con uno spirito di sacrificio, per farle venire proprio su come donne. Grazie.